Buongiorno ragazzi e bentornati sul canale Allora, dopo tre, quasi quattro anni, mi fa ridere questa cosa, quattro anni che sto, diciamo, giocherellando con impianti fotovoltaici è la prima volta, davvero, la prima volta che mi capita una funzione che mi ha sorpreso ma non per il fatto che comunque non la conoscevo ma proprio mi ha sorpreso perché si può sfruttare per avere, diciamo, un sistema di accumulo separato dall'inverter quindi ovviamente anche al carico di casa però ragazzi, senza staccare nessun cavo e addirittura tenendo sempre in marcia l'inverter una cosa molto figa perché se si deve fare esperimenti sulle batterie tipo mettere in equalizzazione oppure farli cicli di carica e di scarica ragazzi, questo si può fare indipendentemente dalla funzione dell'inverter va bene? Adesso vi spiego tutto prima di iniziare ragazzi, mi invito sempre, come solito, iscriviti al canale cortesemente, aiutatemi a crescere come vedete io vi faccio video che interessano a tutti dunque, allora, per cosa sto usando io questa modalità? perché prima di tutto vi spiego a cosa può servire allora, quando vi capitano, come me, delle batterie di recupero ragazzi e ogni volta voi dovete, ovviamente prima di montarle sistemarle, ripristinarle, aggiungere acido mettere in equalizzazione, eccetera, eccetera, eccetera cioè tutte le cose che si fanno per renderle, diciamo, un po' più performanti ogni volta ragazzi, ovviamente questa cosa non potete farla collegando le batterie all'inverter ma bisogna farlo separate dall'inverter quindi bisogna avere un caricabatteria a parte ok, che è difficile trovare a 48V quindi di solito voi avete i 12V come me dovete fare batteria per batteria, quindi un sacco di tempo poi dopo che le ripristinate le collegate all'inverter ok, però, però, se io vi dico che c'è un modo ok, per collegarle all'inverter ok, collegarle all'inverter quindi, comunque, dargli la 48V o la 24V, adesso non so che inverter avete voi ma nel contempo ragazzi escluderle dall'inverter ok, a livello di carico cioè una figata una figata pazzesca perché, ovviamente vi faccio vedere qua, adesso stiamo alimentando il carico con Enel ok, e caricando ragazzi la batteria col solare quindi proprio fisicamente fisicamente il carico le batterie che ovviamente sono due carichi ragazzi vi ricordo che per l'inverter sono due carichi però in questo caso ragazzi sono completamente divisi allora, qua vi fa vedere benissimo come funziona vedete, il sole sta caricando solo le batterie in questo caso le sta mandando in equalizzazione e con Enel, invece sta alimentando direttamente il carico quindi se qua abbiamo delle fluttuazioni di potenze quindi abbiamo un carico alto quindi una caduta di tensione quest'ultimo non inciderà sulle batterie ok, perché le batterie ragazzi in questo caso tipo le sto equalizzando quindi sto portando a una tensione massima la quale deve essere costante nel tempo ed è questa la figata perché questa cosa noi la potevamo fare solamente separando le batterie fisicamente dall'inverter invece ragazzi in questo caso tutto collegato non c'è niente diciamo che può interferire in questa equalizzazione questa modalità ragazzi non la conoscevo assolutamente perché io pensavo che comunque il sole poteva sia caricare le batterie e anche il carico ma non fare proprio due cose separatamente così come Enel non pensavo che l'Enel poteva fare batterie e carico in un modo così separato di questa modalità ragazzi nessuno ne ha mai parlato in nessun canale ecco perché io non l'ho mai conosciuta penso che nessuno mai l'abbia vista se qualcuno l'ha portata in questo canale ragazzi se cortesemente mi linkate il link del video perché io non l'ho davvero mai vista ed è davvero perfetta per chi come noi cerca di recuperare le batterie un risparmio di tempo ragazzi incredibile perché voi se avete un inverter come questo a 48 volt potete lavorare su 4 batterie contemporaneamente per questo inverter ragazzi vi ricordo che è un 48 volt davvero fantastico qual è questa modalità ragazzi allora adesso ve la faccio vedere ovviamente si parla sempre di inverter base Voltronic in questo caso il 5 kilowatt 48 volt della Wevor per chi è interessato ad acquistarlo ragazzi ovviamente lascio qua il link in descrizione con il mio codice sconto sia di questo inverter sia del modello nuovo da 5 kilowatt e 5 sia quelli da 3.5 kilowatt che sono tutte macchine fantastiche ovviamente con prese diversi e con prestazioni diverse allora ripeto per avere ragazzi questa modalità allora dovete andare per chi ha ovviamente il programma Watch Power sui parametri il settaggio dei parametri ok allora è molto semplice voi dovete solamente dirli all'inverter che sistema dovete usare come primario per caricare le batterie infatti qua ragazzi risorse priority che praticamente ragazzi sarebbe quale fonte energetica primaria deve caricare le batterie ragazzi e in questo caso noi gli diamo il sole ok gli diamo il sole quindi lui per caricare le batterie ok per caricare le batterie lui userà solamente il sole per quanto riguarda invece la priorità del carico noi gli diamo Enel ossia utilities ok quindi lui userà solo Enel per il carico la modalità che io vi consiglio sempre ragazzi la SBU che sarebbe quella in cui lui gestisce prima la fonte primaria del sole poi secondaria batteria e terza Enel ragazzi ma per questo tipo di lavoro quando vi serve diciamo le batterie separate dall'impianto quindi le batterie caricate solo col sole e il carico escluso ragazzi dovete mettere utility con la modalità utility praticamente voi state dicendo di usare l'inverter come un bypass un bypass tra Enel ok tra Enel e il carico ok però come sorgente di ricarica dell'accumulo quindi delle batterie il sole con queste due modalità ragazzi ovviamente del resto non dovete toccare assolutamente niente con queste due modalità cioè con questi due parametri ragazzi voi come vedete date carico alle batterie cioè state caricando le batterie solo col sole quindi non state usando Enel ok quindi questi due sistemi ragazzi sono tagliati in due proprio separati dal resto del carico per quanto riguarda ragazzi Enel lui va in bypass praticamente direttamente con il carico quindi ragazzi è come se voi state usando l'inverter come carica batterie fantastico molto figo perché in questo modo voi potete collegare le batterie all'impianto fare tutti gli esperimenti che dovete fare tipo esempio se io adesso voglio vedere se le batterie sono diciamo a buon punto e quindi le voglio mettere a lavorare col carico invece di toglierle montarle farle vado direttamente su SBU in SBU lui cosa fa ragazzi prende e mette a lavorare le batterie subito senza dover smontare fare senza dover toccare niente davvero niente fantastico davvero fantastico perché questa modalità ragazzi nemmeno io la conoscevo ripeto nessuno ne ha mai parlato magari adesso qualcuno dirà che la conosceva già però ripeto come ho detto prima nessuno ne ha mai parlato io non ho mai visto un video a proposito di questa modalità quindi ragazzi per ora io concludo qua per chi ha diciamo questa necessità come me di dover sfruttare diciamo le batterie in un modo secondario dall'impianto ragazzi con queste due modalità che ho fatto vedere prima voi trasformate il vostro inverter in un carico a batterie solare indipendente dal carico davvero fantastico va bene ovviamente ragazzi io tutto questo lo sto facendo perché mi sono arrivate delle batterie che nessuno ha mai visto nessun canale ok quindi sono delle batterie allucinanti costosissime ovviamente sono batterie di recupero quindi io non le ho pagate però ragazzi sono batterie incredibili davvero incredibili perché sono dei mostri molto meglio anche di quelle per quanto riguarda l'accumulo del fotovoltaico io sto cercando di ripestinarle per ora sono diciamo in un punto più o meno morto anche perché mi sono arrivate ieri quindi sto cercando in ogni modo di risuscitarle da stamattina ho visto qualche miglioramento però questo diciamo non mi dà coraggio per andare avanti però le mollo così le sto lasciando sempre diciamo a caricare col sole perché ovviamente non ha senso buttare soldi in energia elettrica se poi alla fine le devo buttare e questo ragazzi è figo anche per voi perché se dovete fare esperimenti quindi dovete caricare scaricare 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 quindi invece di usare Enel ragazzi come in questo caso usiamo il sole che è gratuito va bene in settimana ragazzi se riesco a recuperare queste batterie ne vedremo delle belle va bene vi raccomando come al solito iscrivetevi al canale attivate la campanella come vedete io faccio un video che interessano a tutti ciao e buona giornata grazie a tutti grazie a tutti Grazie.